Ed ecco l'intervento della polizia locale su un tratto molto pericoloso ed è il tratto che da via Liguria porta a Corsa Italia. Ripeto io sono solamente un semplice cittadino dove notavo e facevo evidenziare questa enorme buca che guardate il mio piede viene ricoperto dal buco, cioè una persona anziana, questi sono stati fatti questi lavori. La polizia locale ha molto probabilmente preso in considerazione la mia diretta di questa mattina ma non è possibile che chi fa questi lavori non finisce, guardate qui, parliamo di un piede che entra dentro, un piede entra dentro. Allora, se apriamo l'intervento facciamo vedere le trancelle qua e poi facciamo la segnalazione dei lavori pubblici. Grazie.